Sono le immagini di una tentata rapina nella sala slot che si trova all'interno del centroporto allegro di Montesilvano. Armato di pistola, un 43enne ha minacciato l'impiegata che però è riuscita a ripararsi all'interno dell'ufficio. Non ci sono state fortunatamente conseguenze negative. Il fatto risale alle 20 e 30 di martedì scorso 9 maggio. L'uomo ha tentato in vano di sfondare la porta a calci. L'azione è durata circa un paio di minuti, quindi si è allontanato senza bottino ma dopo un paio di ore è stato individuato e arrestato a Pescara nella casa in cui vive insieme con i familiari. Operazione condotta dagli agenti della squadra volante e della squadra mobile della questura di Pescara. Gianluca Di Frischia. Le ricerche sono iniziate immediatamente e da attività pregressa investigativa siamo riusciti a orientarci subito su Pescara dove effettivamente squadra mobile e volanti siamo riusciti a rintracciare il sospettato che era andato nell'abitazione della madre dove abbiamo effettivamente rinvenuto tutto l'abbigliamento indossato al momento dell'attentata rapina nonché l'arma che si è rivelata essere un'arma a gas in metallo perfetta replica di una Colt 1911. È stata ritrovata nascosta in un mobiletto nel giardino dell'abitazione. Il soggetto su cui c'era stata appunto attività di indagine e che ha permesso anche in tempi brevissimi di riuscire a individuarlo. Era già persona nota in quanto già pregiudicata e sottoposta a una misura alternativa alla detenzione.